Andiamo in Casentino grazie a Coldiretti per far sì che si possa capire come sta riprendendo vita questo territorio attraverso le storie di agricoltori, giovani agricoltori. Quindi do il benvenuto alla responsabile di zona area Casentino Eliana Arrighi e ai nostri ospiti che sono Lucia Stefani, Nicola Francioni, che poi sono dell'azienda agricola Stefani Lucia, giusto? Il nome dell'azienda è questo. Allora, si sta ripopolando il Casentino di nuove generazioni e Coldiretti che compito ha? Allora, innanzitutto come hai detto si sta ripopolando, Lucia è l'esempio della nuova figura di agricoltore che si affaccia a questo mondo, una giovane donna laureata che ha intrapreso inizialmente la carriera da dipendente ma poi è voluta tornare alle origini, quelle del nonno che aveva questo... Nonno Beppe che salutiamo. Nonno Beppe che salutiamo. Nonno Beppe che salutiamo. E appunto far rivivere il podere del nonno mettendo però l'innovazione, qui subentra appunto la forza dei giovani, no? Entrare, subentrare con idee, con cose nuove, nuovi stimoli e quindi Lucia ci racconterà. Allora, io vado da Lucia, no? Certo. Perché effettivamente Lucia laurea di Bibbienese, di Bibbiena, io anche io vengo dal Casentino, laureata in Economia e Commercio, quindi il nonno che voglio dire 92 anni... 98. 98, auguri Beppe, io c'avevo il nome, si chiamava Beppe. E quindi tu decidi di riprendere, facendo che cosa? Sì, la sua attività. Inizialmente anch'io non sapevo bene come riuscire a valorizzare quel territorio, insomma la mia zona. E chiaramente poi dopo ho fatto insieme a lui un corso di avvicinamento al vino... Marito con Nicola? Sì, con Nicola, un corso di avvicinamento al vino e mi sono improvvisamente appassionata al mondo del vino. E ho cominciato, ci siamo cominciati a chiedere se la terra del nonno poteva essere adatta a produrre un vino tutto nostro. Guardate, queste sono la vigna, che sono piante di Sirà, no? Sirà, sì, infatti abbiamo cominciato a informarti. Ma questo quando è successo? Nel 2000... Il corso l'ho fatto nel 2015-2016, abbiamo fatto lo scasso per la vigna e nel 2017 l'abbiamo piantata. Ma è vero che anche il nonno poteva... Il nonno ha piantato la sua barbatella, il suo nonno anche... Lo sai che mi fa venire, ti giuro, guarda. Tutta la nostra famiglia ci ha aiutato in questo progetto che inizialmente era anche un po'... Insomma, alla fine io avevo il mio lavoro, sembrava tutto già abbastanza... Cioè, tu lavoravi fuori? Sì, 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 io lavoravo in un ufficio. Quindi anche hai avuto coraggio, no? Sì, 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 però l'ho fatto con una certa tranquillità perché comunque sapevo che... Cioè, comunque i miei genitori, i miei babbi... Quindi anche Col di Reti ti è stata vicino in questo momento così anche, eh? Sì, sì, anche grazie a loro insomma ho avuto il sostegno per poter cominciare questa attività. Poi comunque con la consapevolezza che dalla terra comunque qualcosa si riusciva a fare. Guarda che mangiare è un atto agricolo a 360 gradi, quindi se uno ci crede in un progetto e poi alla vostra età giù, se non lo fate ora voglio dire quando. Quindi praticamente una generazione è saltata, il tuo papà, e quindi l'hai preso in mano te, una donna. Sì, sì, sì. Però nel cammino, quant'è che siete sposati, Nicola? Eh, dal 2019 sono cinque anni, però ci conosciamo praticamente come siamo bambini. Sono nati nella sala, sono nati e avevano la casa attaccata? Sì, vicini di casa da sempre. Sì, veramente. Ci sono venuti insieme, quindi mi conosce da quando sono nato, mi prege i difetti. Quindi è una vita... Ho preso tutto il pacchetto. Eh vabbè, tutto il pacchetto, ma poi voglio dire, i difetti a volte diventano pregi, eh? Allora, e avete dato vita a un nuovo progetto che si chiama Glamping Pandaland in Casentino. E allora? Perché tu sei un collezionista, quante panda hai? Guardate che lavoro! Eh, le panda, la panda è la passione, è l'unica passione che ho, che è importante, quindi è solo questa. E fin da piccolo, ora sono... Sarà al meglio. Sarà al meglio. Comunque donne motori vanno di fuori passi. Sono 40 pande e la collezione di panda sembra la più grande al mondo, così dicono. Sì, sì, sì. Quindi è una cosa importante, veramente, è una vita dedicata a questa passione. Ma dove le tieni? Si è fatta una struttura a Villa Magra, dove c'è l'azienda agricola, c'è una struttura, era una vecchia stalla che è stata trasformata in un museo, quindi è una cosa davanti alla vigna e è un corso meraviglioso, cioè... È un'esperienza! Eh sì, veramente. E poi che avete... che cos'è questo Gramping Pandaland, se lo devo spiegare, al nonno Peppe dei 98 anni e alla mamma mia che ne ha 85? Ci sono, i nonni sono nelle foto, si vedono, per farglielo capire, non è stato sempre. Sì, è semplice, anche perché comunque è una rivoluzione a quello che è il concetto di azienda agricola, che comunque è legato all'azienda agricola. Eh certo! Perché noi si voleva... cioè la mia passione per essere integrata nel concetto agricolo bisognava fare qualcosa legato alle pande e all'azienda agricola. Ecco Pandaland, quindi un'esperienza. A Villa Magra sono circa 30 etti di podere recitati e è venuto in mente di mettere queste casine di legno sparse nel bosco di Villa Magra e quindi sono delle piccole strutture, chiaramente piccolissime, dove l'idea è quella di avvicinare a ogni casina un modello particolare di panda per poter dare la possibilità a chi lo vorrà, quindi ai turisti che verranno, di stare in un posto, per me è meraviglioso, per noi è meraviglioso. C'è la casina? La casina in mezzo al bosco, immaginati, ok? E poi di prendere la panda e di girare i luoghi del casentino, chiaramente è una panda di 40 anni fa. E quella è in baradana sopra? Quella è in baradana sopra? Ma in baradana, scusa, non è sminuente, come si chiama? È una maggiorina, è una maggiorina, andava di moda negli anni 80 e praticamente una casina sarà affiancata da questa panda 4x4 con questa maggiorina sopra e nel podere sono state riaperte, abbiamo riaperte noi, 8 chilometri di cristale sterrate. Quelle lì che vediamo, queste che vediamo. Esatto, e chi lo vorrà, sempre come esperienza, la sera potrà prendere, anziché dormire dentro la casa, prendere questa panda 4x4, girare in dei punti strategici di Villa Magra, fermarsi la sera e magari si ferma, apre la sua tenda e dorme una notte dentro la panda e sei in mezzo al bosco, quindi non pensi se potresti essere veramente... Al sicuro, tu, voglio dire, perché giustamente sono zone bonificate da voi, insomma, voglio dire, assolutamente, però fai un'esperienza che comunque è un'esperienza quantomeno particolare. Chi è questo accanto a te? È un giornalista. È un giornalista che hanno fatto quando hanno filmato i video sul museo. È certo, voglio dire, il collezionista a livello mondiale di panda che l'ha di tutti i tipi, di tutte le... Sì, tutti i modelli, versioni speciali. Quanto è uscita la panda? 1980. 1980. 1980 e quindi voglio dire, 40 modelli. Scusa se la responsabile, perché io sono affascinata da sta cosa. Ma lei fa parte di questo progetto, l'ha sposato in pieno. E' veramente orgogliosa di aver preso, nel mio piccolo, aver dato il mio supporto a questo progetto. Cioè, quindi diciamo che grazie a Coldiretti che vi ha dato un supporto anche per partire con il video. Certo, ma da un punto di vista tecnico ci vengo a dire anche soltanto un aneddoto. La prima volta che abbiamo presentato il progetto in comune, il tecnico, anche lei ci sostiene per carità, però quando io con enfasi raccontai questa nostra passione, questo nostro progetto ha detto, sì, bellissimo, ma è impossibile da fare, perché non è possibile poi, perché il bello dei sogni è poterli realizzarli. Certo, tra il dire e il fare c'è di mezzo al mare a voi. E in questo Eliana, quindi da Coldiretti, ha trovato chiaramente tutte le leggi già fatte, non è che ci si può riscaldare. Certo, però ha fatto, diciamo, ha sprucciato. Anche perché è una cosa molto recente, è stato prodotto nel 2021, questa tipologia di glamping in Toscana, quindi anche i comuni, insomma, devono fare le prime esperienze. Quindi capite insomma come diventa, io dico sempre che da soli non si fa nulla e di conseguenza la collaborazione con chi ne sa anche più di noi, in questo caso Coldiretti, che vi ha aiutato. Quindi però avete fatto accoglienza, perché so che avete ristrutturato anche il casale. Sì, sì, una parte della, tutta, praticamente tutto il casale che il nonno aveva acquistato, che negli ultimi anni era stato lasciato un po' all'abbandono, è stato tutto ristrutturato, nella parte sotto, insomma, abbiamo fatto tutte le cantine con una zona dedicata alle degustazioni. Quante bottiglie vi producete? Sono circa 1500 per il momento. Bene, quindi questo è il progetto che sta prendendo vita, ci ha preso vita. Sì, siamo ai primi passi. Oh, bisogna mettere in cantiere qualcos'altro. A buon intellito, poche parole, perché il nonno, voglio dire, qui ha visto la, rinascere il podere, ha visto è tutto, adesso voglio dire, diventare bisnonno sarebbe da fuochi d'artificio, scusate, non è che volevo essere un valente, ci mancherebbe altro. È un progetto anche quello in fase di... Brava. Detto questo, cosa possiamo dire? Col Diretti è anche qui in questa occasione a presentare veramente queste storie bellissime, che non è solo di lavoro, ma è storia di vita, che dà esperienze poi al turismo, perché il Casentino è un luogo meraviglioso, non perché ci siamo nati, però è così. È tutto da scoprire. E' bello anche farlo per gli eragliati. Chiudo dicendo solo una cosa, che chiunque penso vorrebbe vivere delle proprie passioni, Certo. Cioè poterci campare. Quindi noi in questa cosa ci si crede tantissimo e nessuno vuole diventare ricco, però vivere e dare agli altri qualcosa in più, insomma. Vivere delle proprie passioni è già una ricchezza. E allora ringrazio, un forco l'occhiali perché non vorrei sbagliare, Eliana Arrighi, responsabile di Zona Area Casentino, ringrazio l'azienda agricola Stefani Lucia e qui abbiamo Lucia Stefani, Nicola Francioni, marito e moglie da una vita e quindi il Glemp in Pandaland in Casentino, andate in questa azienda perché lì potrete usufruire di questo. Grazie a voi, grazie a tutti.